E chiudiamo con un appuntamento. Si terrà a Chiara Valle Centrale un incontro dibattito dal tema La violenza sulle donne, conseguenze a breve e a lungo termine. L'incontro presso il Salone Hauser in Via Natale Rauti, mercoledì 11 ottobre, con inizio alle ore 17.30. Hanno aderito all'iniziativa la dottoressa Maria Francesca Corapi e la dottoressa Romina Ranieri. I saluti saranno della Presidente del Circolo Hauser e del coordinamento donne SPCGL di Chiara Valle.